Vi volevo raccontare la mia storia, io subito non ho aderito a una previdenza complementare avevo appena cominciato a lavorare e mi ricordo avevo una circolare in ufficio dove si doveva decidere di lasciare il TFR in azienda o metterlo in un fondo pensione e tra tutti i colleghi era venuta fuori la questione che non fosse una buona idea mettere i soldi in un fondo pensione perché chissà cosa fanno e poi non li vedi più e poi spariscono è una truffa fatto sta che io ho deciso di non aderire e di lasciare il mio TFR in azienda sono trascorsi diversi anni nel frattempo ho aumentato le mie abilità sui mercati finanziari ho preso delle conoscenze e ho capito di essere stato un vero sommaro perché non ho versato nulla di tasca mia, non ho così ottenuto una contribuzione da parte del datore di lavoro e non ho neanche avuto una detrazione da parte dello stato quindi ho sprecato diciamo 15 anni buoni di contribuzioni e i soldi che ho deciso di non investire nel mio fondo pensione non li ho, non è che li ho messi da un'altra parte ho deciso di non metterli quindi non me li sono ritrovati. Adesso se tu stai guardando questo video e sei un po' confuso e non sai cosa fare ti faccio un semplice calcolo ora calcoliamo quanto è stato l'interesse composto perso di questa cifra qui nei prossimi trent'anni quindi adesso nel mio fondo pensione ci sono 15 mila euro li dovrò investire per i prossimi trent'anni simuliamo che non verserò più nulla arriverò a 67 mila euro ok ora anziché partire da 15 mila euro sommo i 24 mila euro che avrei potuto avere quindi fa trentanove un due tre quindi per i prossimi trent'anni sempre ha lo stesso tasso di interesse senza aggiungere nulla quindi qua è 67 mila euro invece avrei dovuto raggiungere 174 mila euro quindi direi che mancano all'appello 100 mila euro quindi che quei 15 anni dove avrei potuto metterci 50 euro al mese ecco che con una capitalizzazione di trent'anni nel futuro mi sono costati 100 mila euro quindi se stai guardando questo video sei indeciso sul da farsi ricordati di quanto sono stato stupido io a non farlo in gioventù